È la Biblioteca di Varallo, il cuore culturale del Natale varallese. Qua possiamo vedere una mostra d'arte, Luciano Le Stelle, e poi la mostra Libri in Libertà. Da non perdere. Eccoci quindi a Palazzo Racchetti, sede della Biblioteca Affari Non Ecenta di Varallo Sesia. Come dicevo, cuore del Natale culturale di Varallo. Con noi la dottoressa Piera Mazzone, direttrice di questa istituzione che ogni anno si propone come punto di riferimento, soprattutto per i bambini e i ragazzi, ma sono anche tantissimi gli adulti che vengono a visitare Palazzo Racchetti. Una proposta varia quest'anno, ancora più del solito. Sì, quest'anno il nostro dicembre è iniziato presto, il Natale in Biblioteca inizia di solito con l'8 dicembre, l'Immacolata, quando viene inaugurata la mostra Libri in Libertà. 27 edizioni, 27 anni che le signore del Centro Libri Punto d'Ascolto, che hanno la libreria di fronte a Palazzo Racchetti, organizzano questa mostra con la migliore editoria per bambini e per ragazzi. E soprattutto propongono lungo tutto dicembre fino al 6 gennaio visite guidate alle classi. Vengono le classi dell'Istituto Comprensivo di Varallo, ma anche i più piccini, dalla materna alla materna parrocchiale e la scuola di infanzia. Questa è la nostra proposta che è un po' il cuore del Natale da sempre, da 27 anni, come vi ho detto. Poi abbiamo fatto anche tante altre cose, perché il Natale viene preparato anche proprio come allestimenti esterni, come una preparazione attraverso le vetrine, le vetrine che vengono allestite settimanalmente e che ricordano il Natale, poi attraverso dei laboratori di cui poi vi parlerà la mia collega Valentina Griselda. Ma soprattutto noi vorremmo che questo Natale recuperasse il suo vero significato, il suo vero senso, non fosse solo una festa consumistica, ma ci riportasse un po' alle origini. E quindi anche i nostri bambini sono invitati, hanno realizzato proprio dei cartelloni che sono esposti sul Natale, come viaggio, che era il tema dell'Istituto Comprensivo di quest'anno, come viaggio all'interno di SEAT, all'interno proprio della tradizione della Valsesia. Ecco, in effetti entrando nella cortile di Palazzo Racchetti è quasi come entrare in un mondo che avvolge con questi allestimenti natalizi, il presepe, i quadri di cui poi vi parleremo, e poi si entra in questa ludoteca molto bella con queste proposte dell'editoria locale e non riguardanti i bambini. C'è interesse da parte dei bambini per i libri? Perché sentiamo parlare tanto di videogiochi, di cartoni, di film, si parla un po' meno dei libri, invece qua c'è molto interesse, vero? Sì, da sempre c'è molto interesse incentivato anche dal fatto che il Centro Libri propone uno sconto speciale per i bambini, per gli acquisti durante il periodo natalizio. Quindi i bambini, io so che appunto prenotano, addirittura fanno mettere da parte dei libri, che poi i genitori, i nonni, i zii, perché io dico sempre che un regalo di lustrini e bescintillante dura quella manciata di secondi per cui lo si apre, lo si guarda e lo si mette da parte. Un libro invece è un compagno per sempre. Allora, lasciamo un attimo la realtà di Varallo per entrare appunto in un altro contesto dove vi voglio parlare di un libro che è stato scritto da un nonno insieme ai nipotini e anche qui c'è questa doppia valenza, il libro come regalo prezioso per i bambini. Questo libro in particolare è importante da leggere anche per noi adulti, è un librettino e poi c'è la bellissima collaborazione tra un nonno e i suoi nipoti. Sentite. Nell'editoria locale, non pubblicizzato, non diciamo promosso nelle librerie, ma come prodotto di una persona che ama scrivere, che ama far del bene, dobbiamo assolutamente segnalarvi questo piccolo libro. Si chiama L'albero del cuore ed è un libro realizzato da un nonno insieme ai suoi nipotini con finalità benefiche per il Nepal, per un asilo in Nepal e anche per chi fa del bene qui sul territorio, ma soprattutto con l'intento di dare un messaggio molto importante. Con noi Lucio Guida. Allora Lucio, un libro molto bello in cui dici rivalutiamo i nonni. Sì, esattamente così. In questa società dove i nonni contano solo forse a livello economico purtroppo in questi momenti di crisi, rivalutarli nella loro funzione di contastoria ai bambini, cioè contastoria nel modo proprio ampio, raccontando proprio la loro vita, con le loro esperienze ed è molto di aiuto alle nuove generazioni. Ecco, soprattutto sostituendo quelli che oggi sono gli eroi negativi che vengono proposti ai bambini da certi cartoni, da certi videogiochi, con degli eroi semplici, buoni come il mago buono, l'albero del cuore, i suoi elfi, i suoi folletti, che trasmettono ai bambini quei valori che una volta erano i nonni a trasmettere, quindi l'amicizia, la gioia, la giustizia e anche la bontà. Anche la bontà, sì, purtroppo, dico purtroppo, da decenni ormai la televisione ha preso il posto del nonno, cioè raccontano loro, purtroppo raccontano ciò che vogliono, ciò che vuole qualcuno un pochissimo, insomma. Questo non è bene, questa storia appunto racconta che si andrà a finire forse non troppo bene, seguendo questi media e lasciando da parte i nonni, insomma, le vecchie tradizioni. Quindi riscopriamo i nonni, riscopriamo le vecchie tradizioni, noi grandi, se dobbiamo appunto regalare un libro ai nostri bimbi o leggerelo, ricordiamoci di questo bel libricino L'albero del cuore e ecco, facciamo in modo che i nostri bambini possano anche venire a contatto con delle storie positive e soprattutto, insomma, si stacchino un po' magari da quel battagio continuo di cartoni, di videogiochi che non sempre danno loro degli insegnamenti costruttivi per la loro vita. E rientrati nel nostro spazio della Biblioteca Affari Non Nessenti, siamo con Valentina Griselda che si è occupata in particolare dei corsi per i bambini, dei laboratori. Cosa avete proposto? Sono stati tre sabati molto belli, finalmente i bambini sono ritornati in biblioteca per il Natale, tre sabati in cui si sono anche cimentati con dei laboratori, quindi grazie alle volontarie di libri Libertà che sono venute appunto a leggere per i bambini, grazie a Gemma Turnone e grazie al nonno Daniele che ha letto Orpo le favole, quindi Daniele conserva, i bambini proprio io li ho visti proprio interessati, sono stati tre sabati molto belli e l'ultimo sabato proprio con Daniele proprio abbiamo visto come le favole, le classiche favole proprio davvero riescono comunque a coinvolgere ancora tanto i bambini. E questa è una bellissima notizia anche in riferimento al libro di Lucio Guida di cui parlavamo prima. Sì, sono stati, dicevo appunto, hanno partecipato tanti bambini, infatti dieci, anche quindici bambini per laboratorio e hanno proprio anche potuto portare a casa alcuni lavoretti che hanno proprio potuto fare per il Natale, anche con il laboratorio di origami e anche le mamme, io ho visto proprio molte mamme coinvolte, proprio interessate in questi laboratori, quindi è stata un'esperienza proprio molto positiva che speriamo poi di ripetere anche più avanti grazie proprio a tutte queste volontarie che si rendono disponibili a realizzare veramente queste giornate interessanti dove i bambini possono stare assieme, possono fare delle esperienze nuove, conoscere nuovi libri, nuove storie. E legarsi anche a una realtà importante dal punto di vista culturale come è la biblioteca. Esatto, infatti li vediamo proprio ritornare, ritornare sempre a tutti i laboratori ma proprio anche in biblioteca, accompagnati dai genitori e dai nonni e quindi è veramente bello quando li vedi tornare, poi vengono a cambiare il libro, poi insomma vengono loro che portano i genitori, i nonni proprio in biblioteca perché trovano un ambiente che gli piace, in cui stanno bene. Bene, allora ringraziamo Valentina, adesso mi sposto perché è un altro elemento importante del Natale in Biblioteca Varallo, è la mostra di quadri Luciane Le Stelle, con noi Claudia Barbaglia che appunto ci racconta. Allora voi siete un'associazione, come vi chiamate? Noi ci chiamiamo Soffi d'Arte, siamo l'associazione culturale che si occupa, cioè che cerchiamo di promuovere l'arte, la pittura, il disegno a Varallo, a Varallo e nella Valsesia. E quindi avete colto l'invito della dottoressa Mazzone a realizzare questa mostra, come avete scelto le opere che esponete? Sono tutti artisti che noi avevamo già selezionato a maggio per la Biennale Internazionale d'Arte Contemporanea di Varallo, perciò erano tutti artisti che noi conoscevamo bene. Li ho contattati perché a me piace lo spirito nazializio. Infatti elucevano le stelle e il titolo di questa mostra. Ho lasciato loro un ampio spazio di interpretazione, come volevano, come preferivano e sono stata contenta di quello che mi hanno mandato. Quindi sono quadri realizzati appositamente per questa mostra o sono opere che già possedevano e che hanno proposto in questo contesto. Ci sono delle opere realizzate apposta per questa mostra e ci sono anche due scultori e tre fotografi. Alcuni già avevano le opere in casa, alcuni me le hanno proprio realizzate apposta. E questa è una bellissima cosa. Senta, il mondo dell'arte in Valsesia è sempre molto frizzante, diciamo, così come era in passato quando sono stati, insomma, espressi da questo territorio dei grandissimi artisti e ancora oggi si continua su questa linea. Sì, abbiamo anche dei giovani artisti. In particolare è una giovane artista che sta ancora facendo liceo artistico. Veramente dotata di tanto talento. Veramente brava. Allora, brava Giada. E quindi, insomma, è un bel carnet. Quanti sono gli artisti che espongono? 33. 33. Allora, invitiamo tutti a venire nel... Esatto. Perfetto, perfetto. Sì. Quindi, nel cortile d'onore della Farinonecenta. E adesso torniamo con la nostra dottoressa Mazzone, sempre l'anima poi di questo... del Natale culturale, ma anche di tutte le tante iniziative che fate in Biblioteca Varallo. Si dice che la cultura fa sempre un po' di fatica a farsi ascoltare, a farsi seguire. E qua forse siete un'isola felice, ho sbaglio. Ma qui lavoriamo anzitutto da un quarto di secolo, da 25 anni seminiamo. Adesso cominciamo a raccogliere i primi risultati. Perché ecco, in questo dicembre di Natale abbiamo anche trovato uno spazio per le persone più grandi, quindi con la presentazione degli iscritti rimellesi del Basina, nata da una collaborazione con il Centro Studi Balser di Rimella. E questo aveva riempito la sala. Ma poi, soprattutto, cerchiamo queste sinestesie con tutte le arti. Pensiamo che la Biblioteca non sia solo il luogo della parola scritta e del libro, ma il luogo della parola in generale e delle rappresentazioni dei colori. Quindi questo, partendo dai bambini più piccoli, che i bambini appena nati li abbiamo premiati in occasione del nostro 25esimo anniversario, ed è stata una bella festa a cui tutti hanno partecipato. E poi, soprattutto, cerchiamo di rendere l'ambiente gradevole. I nostri utenti hanno già notato che quest'anno abbiamo rinnovato completamente la segnaletica, rinnovato completamente anche il tipo di addobbi, di presentazione del Natale. E questo è un modo di, per noi, un sentimo di attenzione verso i nostri lettori, verso i nostri utenti, e cercheremo sempre di più di uscire dalla Biblioteca per andare incontro a chi in Biblioteca non ci va, per capire quali sono le posizioni. I giovani vengono? Sì, i giovani vengono, però la loro frequentazione è spesso legata a motivi scolastici, quindi alla scuola, quindi molto spesso nelle scuole elementari, nelle scuole medie, alle superiori, però poi si perdono un po'. Invece noi vorremmo acquistare questa fascia, questa fascia di persone che vorremmo trovarsi in biblioteca, anche musica, attrezzature tecnologiche, qualcosa per un modo per stare insieme all'interno di questo spazio che diventa polivalente. Allora, facciamo di questo proposito un augurio, un auspicio per il prossimo anno che sta per arrivare. Il tempo è scaduto e da parte mia, da parte di Giovanni Pellecchia, che è dietro le telecamere e naturalmente anche Bosa, auguriamo a tutti i nostri telespettatori buon Natale, una serena festa in famiglia e ci rivediamo la prossima settimana ancora con Obiettivo Valsesa, che sarà l'ultimo del 2022 e che ci porterà poi in un nuovo anno, speriamo, migliore di quelli che abbiamo vissuto fin qui. Certo, un anno di pace e un anno di serenità. Auguri a tutti, auguri. Auguri, auguri. Grazie a tutti.